Alt, alt, mi è arrivata una soffiata di un uccellino, una piccola cantata di un uccellino su chi stiamo pensando di prendere, ve l'ho messa in copertina, al posto dell'infortunato Buchanan. Non so, non so ragazzi, perché quando la fonte è super affidabile ve lo dico e questa volta lo è, ma mi ha fatto un certo discorso, che è questo. Allora, sapete, Buchanan si è infortunato, l'idea, anche se Ausilio ieri ha dichiarato il contrario, ma sappiamo tutti che nel mercato spesso si mente, l'idea non è di sostituire Buchanan con un difensore alzando Carlos Augusto a vice di Marco, ma l'idea è di prendere un esterno destro, che possa giocare anche a sinistra, polivalente, basso costo, italiano come preferisce quasi sempre Marotta, e il nome è Zappacosta dell'Atalanta. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto, adesso parliamo di tutto, vi spiego bene, ma prima iscrivetevi al canale. Cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live, live che faremo anche oggi, lo sapete, stiamo seguendo gli europei insieme, e ormai lo faremo fino alla fine. Bene, Inghilterra, Svizzera, le 17.45, e poi alle 20.45 l'Andaturchia, quindi anche oggi, proprio come ieri, doppia live, e quindi ragazzi, lo sapete, seguitemi. Allora, ripeto, iscrivetevi al canale, fatelo per idee dell'algoritmo di YouTube, Zappacosta. La soffiata che mi è arrivata su Zappacosta dice questo, premettendo che OCTRI spinge per i profili giovani ma forti, e questa è la politica di OCTRI, però ha lasciato molta, molta libertà, ovviamente a Marotta, Ausilio, Bacin e Inzaghi, come sappiamo. Quindi, è vero che c'è stato il discorso, c'è anche di mezzo il discorso De Frey, ma se vi fate conti, ragazzi, il discorso De Frey è staccato dal discorso Buchenon, perché anche se va via De Frey e tu prendi un centrale, comunque è sempre un buco per Buchenon. Quindi, al limite, si può fare un centrale, ma un altro esterno, e il nome Zappacosta perché costa poco. Ok, Zappacosta, io credo che con un massimo, massimo, massimo di 10 milioni lo prendi, ma sto esagerando. Se guardate su Transfer Market, anzi, lo guardiamo insieme, Transfer Market dà 6 milioni il vero valore di Zappacosta. Eccolo qua, ha un'età, 32 anni, ok, quindi sappiamo che non è giovanissimo, 6 milioni di euro, può giocare, allora, di base al destro, ma può giocare anche a sinistra, da cui ha fatto anche dei big all, con dei dire rientrare neanche così male, ragazzi, Zappacosta. E se andiamo in rendimento, ovviamente mettiamo per stagione, andiamo a vedere l'ultima stagione che ha fatto il nostro Zappacosta, e scopriamo che 31 partite, 2 gol, 1 assist in Serie A, 11 partite in Europa League, 4 assist. non è neanche così malvagio, non è neanche così malvagio, ora io preferirei altro, ma il profilo che si sta valutando è Zappacosta. Poi è chiaro, qualora andasse via De Frai, si dovrà sostituire anche De Frai, ma non fatevi ingannare, non fatevi ingannare, perché il bracetto sinistro è vero, il bracetto sinistro è il bracetto sinistro, ma, ragazzi, Carlos Augusto Inzaghi lo preferisce come vice bastoni proprio perché è bravo a impostare a un buon sinistro. Quindi, quantomeno, Inzaghi vorrebbe proprio un esterno di ruolo per sostituire Buchanan, ma non puoi prendere, faccio un nome, non esiste, perché non ci sono i soldi, lo hanno anche scritto, un cansello, no? Cioè, non puoi pigliare un titolare, perché su Buchanan ci puntano. Quindi devi prendere uno che ti può coprire la stagione, ma poi quando rientra a Buchanan devi puntare su Buchanan. Se ci pensate, Zappacosta è il profilo perfetto, lo prendi a poco, è già l'esperienza, gioca già nello stesso modulo, perché anche lui fa il 3-5-2 con Gasperini, e più o meno è quasi anche similare alla strategia, molto offensiva come il nostro Inzaghi, anche se il nostro Inzaghi è ovviamente molto meglio di Gasperini. Quindi a me è arrivata questa soffiata. Si sta pensando a Zappacosta. Io, ripeto, siccome su Buchanan ci punto e per me sarà forte, sono d'accordo con prendere un profilo che ti dà più il buco, ma che poi non devi essere costretto a mettere titolare o semititolare e a far scalare di nuovo nelle gerarchie Buchanan. Perché poi andremo ad avere Dunfris e, volendo Darmian, perché Darmian farà il vice Dunfris o viceversa, Bissek coprirà come braccetto destro Pavard, braccetto sinistro coperto da Carlos Augusto, e a sinistra Di Marco e Zappacosta, che poi può invertire, Darmian può giocare anche a sinistra, Zappacosta anche a destra, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Quindi questo sarebbe il profilo. Non l'ha scritto ancora nessuno. Ripeto, non è così facile perché ci sono una serie di tassieri da incastrare, ma si valuta Zappacosta. Si valuta Zappacosta. Questo sappiatelo. Già che ci sono, tocco anche l'argomento DeFry, e vi dico che DeFry io non lo venderei, neanche per 15 milioni. Lo so, già vi sento, ma monarca 15 milioni per uno di 32 anni? Signori miei, a Cerbi si è operato e si è, perché era infortunato, e deve recuperare. Anche qualora fosse integro per inizio campionato, ma non sarà in forma. Quindi chi ci vuole è mezzo lì a gestire la difesa. Il nostro Stefanone, che conosce la nostra difesa, e che la guida da sei anni. E' vero che da quando è arrivato a Cerbi ho perso il posto da titolare, ma è comunque un semi-titolare. Conosce perfettamente i compagni di reparto e conosce il gioco di Zagli. Se tu vendi DeFry, e a Cerbi all'inizio, all'inizio anno, non potrà mai essere in forma, perché viene da recupero di un infortunio. Dovessi far giocare lì o uno dei nostri fuori ruolo, un bastone in mezzo, e l'abbiamo visto con l'Italia, meglio anche di no, o che ne so, Pavar o Bissec, ma meglio di no, oppure direttamente quello che prendi dal mercato, che poi, con 15 milioni, chi prendi meglio di DeFry? Ne devi aggiungere molti altri, per pigliare uno almeno a livello di DeFry. Quindi io non lo toccherei mai DeFry. Per quest'anno, intendo. Per quest'anno DeFry non lo toccherei. Soprattutto con la situazione a Cerbi. Fosse stato integro a Cerbi, che poteva fare tutta la preparazione tranquilla, ci avrei anche pensato. Ma oggi io DeFry non lo... Su Zappacosta vi ho detto, non vi sto dicendo arriva Zappacosta, vi sto dicendo è il profilo che si sta valutando e in realtà è lui. Non come vi dicono, come vi ha detto ausilio, pensiamo a un braccetto sinistro, per poter alzare poi Carlos Augusto invece di Marco. No. Per sostituire Buchenon si sta pensando a Davide Zappacosta. Ditemi voi come lo vedreste Zappacosta. Io ripeto, è polivalente, può giocare a destra, può giocare a sinistra, è italiano, 32 anni non è neanche così vecchio, spinge, perché è uno di spinta. Non sei costretto poi a fargli fare così tante presenze quando rientrava Buchenon, quindi non oscuri l'investimento su Buchenon. Per me, ragazzi, è perfetto, con il poco budget, perché ragazzi, ve lo sapete, io voglio Cancelo, ovviamente, però dobbiamo considerare il budget, eccetera, eccetera, la stabilità finanziaria, ormai lo sappiamo a memoria. Quindi, per me è un grande Zappacosta, e ripeto, non voglio vendere DeFry, voglio sapere la vostra. Io commenti li leggo tutti, quindi, anzitutto, iscrivetevi al canale. Ficcate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche quando faccio video, quando faccio live, live che faremo oggi, due live, 17.45, Inghilterra, Svizzera, live reaction, 20.45, l'Anda Turchia, live reaction, quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatelo per i dettagli al algoritmo di YouTube, lasciate un bel like, e iscrivetevi la vostra, sia su Zappacosta, che su DeFry. Io commenti li leggo tutti, quindi, poi, ad alcuni rispondo anche. Detto questo, come sempre, il nostro solito saluto, in latino, vide, te, mox, forza inter, sempre. Ah, piccola postilla, ieri il portogallo di Liao, a casa. Forza inter. perché. Grazie a tutti.